Radio Bruno in diretta dal festival di Sanremo Sanremo non è soltanto il festival, il dopo festival, ma anche una movida notturna che termina addirittura all'ora del cornetto e del cappuccino Tra i locali storici di Sanremo c'è anche il Morgana e questa sera si esibiranno loro i Cube Guys, benvenuti! Eccoci, grazie mille a voi! Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità Allora, che cosa succederà questa sera? Raccontateci un po' Ci divertiremo come dei matti, come sempre, questa è la priorità Porteremo il nostro, chiamalo, suono, qui a Sanremo, siamo ben felici di esserci Tanti anni che non si veniva qui, quindi è bello, poi non cantiamo quindi Poi c'è il sole, si sta bene, si sorride Allora, noi vi ringraziamo perché siete arrivati in un orario un po' inusuale, insomma per voi, perché vivete tutta la notte Abbiamo appena finito, abbiamo appena finito, no Oscar Come vi siete preparati, insomma, musicalmente? Andrete a seconda di quello che la gente vedrete che, insomma, vorrà? Oppure avete già una scaletta mentale? Ma il nostro genere è house music, produciamo house music da diversi anni, perciò E quello sarà sicuramente lo stile della serata Speriamo che ci siano tante donne durante la serata, così faremo sorridere anche loro e ballare anche loro E di belle donne, tra l'altro, nel locale ce ne sono sempre tantissime Capita spesso che prendano il microfono, facciano da vocalist durante le vostre serate? Ma difficile, nel senso che può capitare a seconda dell'evento, però è difficile In generale, sì, diciamo che il vocalist esiste molto in Italia Noi lavorando tantissimo all'estero, all'estero questa figura è un po' mancante Però ci sono delle bravissime vocalist in Italia Meno male, facciamo lavorare anche queste vocalist italiane Non prendiamo esempio dall'estero, altrimenti prendiamo anche questo lavoro Però io volevo sapere, appunto, oltre al passaggio a Sanremo Insomma, poi che cosa succederà? Dove andrete? Allora, siamo un po' sempre in giro per il mondo Nel senso che siamo appena tornati dal Canada Avremo un tour a Miami e Stati Uniti appena la settimana dopo Diciamo che l'Italia ci tocca un 20% del nostro mercato E siamo ben felici di esserci, perché comunque è il nostro paese, lo amiamo E da un punto di vista possiamo pensare che quello che abbiamo visto negli ultimi dieci anni all'estero Loro l'hanno imparato da noi nel periodo d'oro della Movida italiana In fine anni Ottanta, inizio anni Novanta Speriamo che torni nella Movida che era stata il grande clou dell'Italia dei tempi della riviera romagnola Speriamo che magari sia la riviera Ligura questa volta a portarlo E che dalla Liguria passi tutta l'Italia, che si rianime Anche perché abbiamo bisogno anche di divertirci, di essere spensierati Ne abbiamo proprio bisogno Quindi grazie mille di essere stati con noi Prima di salutarci, se volete dare i vostri contatti Che così la gente vi può seguire ovunque voi siate nel mondo È semplicissimo, è The Cube Guys ovunque Su ogni social cercate quello, non sbagliate Riciso, grazie mille Grazie a voi Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon, Modena Giochi, Alessara Guesthouse, Mondo Convenienza, Rosanna Alpi, Concessionaria Renaud Franciosi, Cornacchini, ODS Giocattoli e Biperbanca